benvenuti a questo nuovo video training per la serie affinity photo questo video training molto utile molto interessante vi farà vedere come creare una corrispondenza tonale e di luminosità tra due soggetti ora voi vedete che questi sono due livelli separati questo è un livello di questa cattedrale inglese e poi qui ho inserito questa ballerina voi notate subito che non c'è corrispondenza né tonale né di luminosità e dunque l'immagine messa così non avrebbe molto senso ecco che allora abbiamo bisogno di una tecnica che ci consenta di creare innanzitutto una corrispondenza tonale tra la ballerina e lo sfondo e allora vediamo come fare allora crea un nuovo livello di regolazione che trovo qua sotto guardate clicco su hsl oppure naturalmente posso prenderlo anche qui tra i livelli di regolazione hsl oppure con ctrl o command u ok dunque si apre questa mia finestra hsl con questa finestra qui riesco a creare una maschera che mi faccia vedere subito le tonalità diverse dei dei due soggetti allora intanto attivo hsv che lavora sui colori e dunque guardate sposto la saturazione al massimo e la luminosità al massimo vedete guardate se non avessi attivato questa questa voce hsv avrei tutto bianco ma con questa attivazione voi vedete che qui ho le tonalità oi colori di queste due immagini e vediamo subito che la ballerina ha una tonalità completamente diversa e dunque io devo trovare un modo per far corrispondere la tonalità di della ballerina con il resto della nostra immagine dunque questa finestra hsl è servita a creare diciamo la mappa di tonalità adesso dobbiamo naturalmente lavorare e dunque qui metto tonalità ok adesso mi posiziono qui sulla nostra ballerina e attivo come regolazione colore selettivo clicchiamo e voi vedete subito che questo colore selettivo mi consente di gestire la composizione dei singoli colori dunque del rosso del giallo e così via allora intanto questo livello qui però deve diventare un sottolivello dunque un ritaglio di livello della ballerina in questo modo voi vedete che qualunque modifica io voglia effettuare viene effettuata solo per la ballerina allora cominciamo con il colore rosso che forse quello è più dominante voglio abbassare un po il magenta e voi già vedete che abbassando il magenta come avete visto credo già più una corrispondenza e aumento anche un po il giallo e magari abbasso leggermente vedete qui l'azzurro ma senza esagerare poi passo al giallo anche il giallo qui sul sul magenta di nuovo voglio abbassare un po vedete il magenta abbassandolo un po crea già più corrispondenza e aumento il giallo notevolmente nel nei colori gialli adesso voi vedete guardate il prima il dopo se disattivo voi avete già visto che abbiamo creato una netta corrispondenza proviamo adesso a nascondere un attimo il livello di tonalità e vediamo guardate il prima il dopo voi vedete che già c'è molta più corrispondenza tonale naturalmente io adesso qui posso intervenire ancora in qualsiasi momento voi vedete posso aumentare un po il giallo ma più che altro tornerei nel rosso e guardate abbassa ancora leggermente l'azzurro e un po il magenta però senza esagerare provo e controllo un po i cursori adesso per adesso lo chiudo guardate il prima e il dopo e così abbiamo sistemato i toni ricordatevi che poi alla fine possiamo intervenire sempre leggermente ancora se non fosse soddisfacente ma quello che ci accorgiamo è che anche come luminosità non c'è corrispondenza la ballerina è decisamente più luminosa rispetto all'ambiente ma come posso verificare questo in questo caso mi posiziono sopra la tonalità e aggiungo un livello di bianco e nero e dunque vado sotto i livelli di regolazione bianco e nero e voi qui vedete subito che abbiamo una luminosità superiore della ballerina rispetto all'ambiente stesso al posto del bianco e nero potevamo creare anche una maschera di luminanza comunque lasciamo questo bianco nero adesso e allora andiamo a regolare la luminosità all'interno della ballerina e per questo scelgo i livelli e dunque qui i livelli di nuovo li porto dentro come livello di ritaglio e cambio però subito metodo di fusione in luminosità ok perché non vogliamo lavorare sui colori coi livelli cambiando i colori ma solo la parte di luminosità e allora andiamo a vedere in questo caso aumento un po' i neri vedete sposto il cursore dei neri per aumentarlo un po' ok abbasso leggermente i bianchi ma veramente di poco mentre quello che è interessante qui è lavorare guardate sulla gamma la gamma sono i mezzi toni vedete e se lavoro sulla gamma voi vedete che qui comincia a esserci una maggiore corrispondenza provo adesso nascondere un attimo la regolazione e guardate il prima e il dopo decisamente e di venti c'è una corrispondenza maggiore posso lavorare leggermente qui sui bianchi abbasso un po' i neri guardate adesso decisamente abbiamo direi risolto il problema guardate il prima e guardate il dopo ok adesso che siamo riusciti a creare questa corrispondenza tonale possiamo fare un po' di fine tuning della nostra immagine innanzitutto qui vedete manca un'ombra di appoggio e dunque mi posiziono sul livello sfondo aggiungo un nuovo livello e poi imposto un pennello vedete è un pennello morbido con un'opacità del 20 e un flusso del 20 e dunque piuttosto leggero passo qui e guardate passo più volte conviene sempre tenere pennelli di flusso basso e poi passare più spesso piuttosto che una pennellata che poi è troppo intensa vedete qui possiamo decidere come passare dove passare e così via dunque ecco qui guardate intanto abbiamo aggiunto un'ombra che già da un senso più realistico e poi aggiungo sopra questo gruppo invece una regolazione di luminosità e dunque vado sotto livello filtri life e scelgo illuminazione oppure qui guardate anche qui sotto filtri life posso scegliere illuminazione che è l'ultimo qui e qui possiamo impostare questo filtro che aggiunge questa regolazione vedete di luce qui possiamo muovere sia i singoli coni che naturalmente possiamo anche gestire qui direttamente nel pannello allora la prima cosa che vorrei fare è aumentare un po l'ambiente il cono esterno lo allargo un po abbasso un po la distanza vediamo di ridurre un po l'immagine per vedere bene e guardate qui possiamo anche gestire intanto qui vedete una rotazione e così via riduco un po i coni interni e poi qui possiamo ad esempio cambiare un po il colore tengo il colore un po più intenso e poi anche sull'ambiente magari modifico il colore così vedete possiamo poi regolare questo colore e anche qui la brillantezza e già come vedete comincia avere un effetto diverso guardate senza illuminazione guardate con illuminazione naturalmente l'immagine è diventata molto più interessante abbiamo una perfetta corrispondenza tonale abbiamo la giusta ombra e poi abbiamo questa questa illuminazione che chiaramente contribuisce a rendere interessante l'immagine ma per ottenere questo era fondamentale creare una corrispondenza tonale e di luminosità che siamo riusciti a ottenere grazie a questa tecnica che vi ho fatto vedere in questo video training grazie grazie grazie